salve a tutti ragazzi qui è Andres e siamo su un nuovo video per quanto riguarda il pokemon tgc online insieme ad un ospite ormai fisso si è stabilito qua con la tenda e quindi possiamo presentare lo sentite dalla voce il nostro amico vertical x x x triple x per vertical e quindi eccolo qui ciao a tutti ciao a tutti benissimo sempre un saluto molto molto calore molto semplice adesso ovviamente dovete spolliciare come dei cannati in calore per questi video per questi pack opening anche sul tgc ovviamente vi consiglio di guardarvi anche quelli in real life insieme a questo questa istituzione e non solo visto che dietro le quinte c'abbiamo qualcuno che fa il furbetto vero cameraman se la ride è pazzesco allora quando le ciance dobbiamo aprire dieci pacchetti e ovviamente chi vince sarà colui che troverà più gx ovviamente adesso andiamo subito a spacchettare ok ragazzi siamo carichi a mille partiamo subito allora facciamo 5 pacchi io e 5 ok allora chi parte per primo puoi partire te vuoi che porta io decidi te l'ospite di casa parte l'ospite di casa ecco la mia risposta ok allora sai già come si fa perché anche te hai il tuo profilo eccolo eccolo lì benissimo ok portiamo subito se carico chi vuoi venire questi chi vorresti ma anche una ultra bolle anche un'ordorata abbiamo trovato charge bag e reclutati in scala ma assieme una rara cosmo e continuiamo ok attenzione attenzione è molto carico la nostra istituzione abbiamo trovato 3 9 3 9 e l'arcobaleno un'altra prima rina pazzesco nì ancora niente ancora niente altro pack e siamo già a 3 questo è il terzo attenzione attenzione 2 2 carte premio attenzione abbiamo un sciarpello bene bene dai carino carino e sciarpello grafico e mi stavo gasando per niente questo è l'ultimo sbaglio quarto e quarto e quarto e quarto e quarto ma dai wishy washi pazzesco ci ci persegue tauro cx facciamolo vedere bene premio di quella destra ok taurus gx con 180 ps con ira incornata e pasta toro gx 30 per questo lo inseriremo in un deck solo per lui ci sta ci sta e quindi vertical si porta a un punto pazzesco con la sua gx non è full art se non mi sbaglio no no non è full art l'ultimo ultimo pack per il nostro ospite attenzione 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 altre due attenzione un inserario olografico molto carino carino e un crobat non l'ho mai visto colpa sorpresa tutti carino scicchettoso schicchettoso bello hashtag sotto nei commenti schicchettoso ok tocca a lei la nostra istituzione ha finito finalmente ha trovato solamente una gx vediamo cosa faremo noi solamente vediamo te ok attenzione ci lancia la sfida e la accogliamo con calore abbiamo trovato ipno e più comunque bellissimo con caprione e la rara è un l'alto l'alto uno schifo assurdo pazzesco continuiamo andiamo avanti subito con un altro pack allora abbiamo uh toghe de maru carino toghe de maru toghe de maru e goldak con graffio oggetto doppio pazzesco l'abbiamo trovata ancora una massa ragazzi speriamo in bene adesso abbiamo cosmo e litte sai da growl e trova e rola tarra cat trumbeck e la pozione ma due carte premio la prima ci dà un bellissimo l'antur non ci credo l'abbiamo appena trovato l'antur non ci perseguita ragazzi allografico pazzesco e un gigalit carino non l'avevo mai visto artiglieria roccia e tiramassi non male non male tirami su tirami su non abbiamo trovato ancora la massa e questo è il quarto pack che apro attenzione rischiamo grosso rischiamo grosso ok uh abbiamo un ultra ball la timer ball un liam che di sesso non si sa da che parte stia e la rara è un bellissimo uh gum shows gx donald trump infuriato con sopralluogo rimbalzo botta in testa che toglie 100 e occasione investigativa gx 10 più 200 punti 210 ps per questo gum shot gx e siamo a quota 1 pari attenzione attenzione e adesso arriva il bello perché è l'ultimo pack per me e vediamo come finirà questa sfida nel frattempo troviamo diglett in versione alola sandile wishy gosh che piange e out l'inutile out out ok abbiamo due carte premio speriamo in bene speriamo di scolare pronti partenza via un butterfly verso il butterfly bellissimo bellissimo e alla fine troviamo attenzione un cloister un cloister bruttissimo bruttissimissimissimo inutile cloister io direi che insomma abbiamo trovato una testa direi che possiamo anche sgarrare aprire un ultimo insieme lascia a lei l'onore ok non ce ne sono due abbiamo trovato un altro più comuco è un roguerola molto chiccoso e la rara è un bellissimo arcane con centra della piaccia tempesta di fuoco 190 scartiamo e scartiamo tre energie allora ragazzi abbiamo trovato poca roba abbiamo trovato solamente due GX ovvero cos'è? Gumshoff? Gumshoff? cos'è che abbiamo trovato? Tauros abbiamo trovato Tauros GX e Gumshoff GX io direi che per questo video è tutto salutiamo l'istituzione più figa d'Italia ciao a tutti qui da Andres è tutto ciao ragazzi ciao a tutti